Un particolare che possiamo evidenziare ora è la tipologia di allacciatura delle scarpe. Sempre di più vediamo questo genere di laccio, che è il quick lace, che è un laccio veloce, che è un cordino ovviamente molto resistente, difficilissimo da rompere e molto sottile rispetto al classico laccio che può essere fatto in materiale diverso. Questo laccio particolarmente ci permette di avere intanto un'allacciatura immediata, quindi un bloccaggio della scarpa molto più rapido. E poi la tensione del laccio scorre molto bene su tutto il dorso del piede e quindi riusciamo a vincolare in maniera molto precisa la calzatura dal piede. Se invece utilizziamo un laccio tradizionale, io dico sempre che è una cosa importantissima da imparare, anche se sappiamo che tutti sanno legarsi alle scarpe forse dall'età di sei anni, però non si impara mai abbastanza. A me piace far conoscere la scarpa quando la proviamo con una tensione del laccio veramente molto esagerata. Questo ci permette di conoscere come la scarpa vuole vestire il nostro piede in modo veramente molto preciso e conoscere questa tipologia di allacciatura ci permette anche di andare in particolari situazioni a lascare o a lasciare l'allacciatura molto più leggera, magari per avere un comfort maggiore, però dobbiamo sapere vestire la scarpa nei diversi modi. I diversi terreni chiedono un'allacciatura diversa della scarpa. Grazie a tutti.